Con decreto regionale del 2016 era stato approvato un documento tecnico di riordino ospedaliero della regione Abruzzo con la individuazione di una UOSD, Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Pediatria ad indirizzo reumatologico presso l'ospedale di Chieti. Nel novembre del 2016 la regione Abruzzo aveva comunicato che era stato istituito presso l'ospedale Santissima Annunziata di Chieti l'unico centro specializzato in reumatologia pediatrica per Abruzzo, Marche e Molise. Con deliberazione successiva 463 del 2021 sulla riorganizzazione della rete ospedaliera la UOSD di pediatria ad indirizzo reumatologico è stata declassata ad Unità Operativa Semplice solo ambulatoriale. Una brutta notizia per i piccoli pazienti in trattamento che oggi sono oltre 400 il 40 per cento dei quali proveniente da fuori regione stabilendo così una mobilità attiva importante per la nostra regione come ha sottolineato questa mattina in conferenza stampa il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari che chiede alla regione importanti risposte ai tanti pazienti che arrivano ogni giorno all'ospedale di Chieti. Siamo stati invitati dall'associazione Arara per la reumatologia pediatrica allora diciamo subito una grande eccellenza regionale non solo anche nazionale perché vengono da tutte le parti d'Italia era UOSD Unità Operativa Semplice Dipartimentari inspiegabilmente nel nuovo piano sanitario di riordino alla rete ospedaliera la regione l'ha depotenziata e declassata UOS che significa che da UOSD a UOSD si perde il primariato non ci sarà più un primario non ci sarà più un centro di costo e la paura e la preoccupazione di queste mamme per i loro bambini perché si parla di pediatria reumatologica è di perdere una grande eccellenza quindi noi diciamo oggi io sono stato invitato sono qui sono accanto a loro farò di tutto diciamo oggi alla regione chiediamo di rivedere questo atto a mio avviso irresponsabile e vergognoso di riclassificare la reumatologia pediatrica in UOSD con un vero primario e un centro di costo ci auguriamo che ci ascoltino tutto qui noi siamo qui per farci ascoltare. io vengo da fuori regione sono più di sette anni che grazie a questo reparto riesco ad avere per mia figlia le cure giuste l'assistenza giusta e tutte le terapie necessarie se il reparto verrà meno sarà molto più complicato curare mia figlia e nonostante i miei viaggi della speranza a Chieti probabilmente sarò costretta ad andare ben oltre i chilometri che faccio attualmente e la cosa è ingiusta perché la salute dei figli è un diritto di tutti e non possiamo chiudere per motivi politici e economici non si fa economia sulla salute.